brillante amante degli scherzi alla mano così verrà descritto da chi lo aveva conosciuto di se stesso invece dirà sono pessimo nelle interviste sono un attore e trovo noioso essere me stesso e tra gli attori più famosi eleganti affascinanti della hollywood degli anni 50 e 60 esempio di virile mascolinità e prototipo dell'uomo ideale perché era sì virile ma anche gentile e sensibile l'ultimo dei romantici in coppia con doris day sua grande amica e partner perfetta ha ridato nuova linfa al filone delle commedie romantiche di cui egli era l'eroe indiscusso come attore era credibile nelle commedie d'amore come nei drammi ma la sua vita dietro le luci sfavillanti della macchina del cinema fu tutt'altro che semplice ma di questo ne avremmo avuto notizia solo dopo la sua morte per certi versi prematura e del tutto inaspettata la sua scomparsa ha portato alla luce tutti i tormenti le ombre e le contraddizioni della vita di questo straordinario artista benvenuti a the hollywood boulevard oggi vi parlo di rock hudson roy harold sherrard jr nasce il 17 novembre del 1925 a winnetka nell'illinois figlio unico di la sua è una famiglia della classe proletaria suo padre roy sherer senior era di origini tedesca e svizzere e lavorava come meccanico la madre katherine wood di origini inglesi era commessa in un negozio di alimentari durante gli anni della grande depressione quelli che seguirono al crack del 29 entrambi persero il lavoro e andarono a vivere a casa dei nonni materni in una fattoria poco fuori la città l'infanzia di roy fu molto serena ma anche caotica in casa con i nonni ci vivevano anche lo zio materno e la sua numerosa famiglia cresce quindi circondato da cugini zii nonni e gli animali della fattoria ma senza dubbio la sua figura di riferimento fu la nonna la figura carismatica di quella casa un po affollata eroi della nonna era il cocco l'unico fra i nipoti a non essere mai rimproverato quando combinava qualche guaio la loro non era una fattoria particolarmente grande e di conseguenza anche la casa era piuttosto piccola eppure nonostante vivessero tutti stretti come sardine in famiglia non risuonavano mai urla di rabbia o litigi e poi la vita di campagna si svolgeva essenzialmente fuori nessuno stava davvero rinchiuso in casa per troppo tempo i ragazzini che ci fosse sole pioggia vento o freddo polare erano sempre a giocare nell'aia gli uomini e le donne nei campi o a pasturare gli animali o a badare alla casa cercando di far quadrare a fatica l'economia di casa roy era un bambino sorridente gioioso che amava tirare i cavalli per arare il terreno o manovrare il trattore ma tutto questo però non durò molto perché nel 1932 quando roy aveva appena 7 anni suo padre li abbandonò senza dire niente a nessuno un giorno di nascosto dalla moglie preparò una valigia e si avviò verso la porta fu beccato con la valigia in mano da una delle nipoti l'uomo le mise in mano 5 centesimi facendosi promettere di non dire niente a nessuno che la madre che per lui sarà sempre una figura determinante insieme al figlio si trasferì di nuovo in città e con il poco denaro che riusciva a guadagnare facendo vari lavoretti affittò un piccolo appartamento sopra una farmacia ma non rimase solo a lungo quello stesso anno si risposò con un uomo di nome wally fixgerald un ufficiale di marina che adottò il piccolo roy che da allora si sarebbe chiamato ronald fixgerald il padrino di roy era un uomo serio e rigorosissimo che dietro all'aria di integerimo militare però nascondeva un temperamento estremamente aggressivo e che viveva attaccata alla bottiglia l'uomo passò in fretta dall'affetto alle botte perché a suo dire il ragazzino aveva bisogno di una raddrizza visto che aveva osato desiderare di prendere delle lezioni di recitazione cosa che lui riteneva ovviamente roba da femminucce il piccolo roy da ragazzino felice dalla battuta sempre pronta si trasformò in un bambino impaurito sempre pronto a parare i colpi ripetuti e continui del suo padrino che nel 1940 quel marito violento lo lascia ma i segni sulla psiche del piccolo roy saranno indelebili e lo segneranno più di quanto egli ammetterà mai gli unici momenti di evasione per lui e la madre in quei terribili anni di abusi e soprusi erano le fughe al cinema della città lì dove il piccolo roy poteva permettersi di sognare una vita felice lontano da tutto quello e il suo sogno era sempre lo stesso diventare un attore ma quel desiderio lo teneva stretto dentro di sé mai si sentì libero di dirlo ad alta voce perché nessuna winnetka osava sognare di diventare un divo del cinema il massimo dell'ambizione era fare il vigile del fuoco ed era già sognare in grande che però quell'uomo orribile lo aveva risposato quando roy aveva 15 anni ma di nuovo arrivarono al divorzio la situazione economica di roy e la madre era disastrosa e ancora giovanissimo mentre andava ancora a scuola roy iniziò a lavorare per racimolare dei soldi mentre la madre lavorava come governante presso una ricca famiglia insieme divisero per un po la stanza che la famiglia aveva assegnato a key all'interno della loro tenuta poi key riuscì ad affittarsi un piccolo appartamento roy impegnato con la scuola e con il lavoro non aveva molto tempo di divertirsi e guardarsi attorno come avrebbe dovuto fare un ragazzo della sua età ma poco male perché pare che da ragazzino rock non fosse esattamente il più corteggiato della scuola era già molto alto ma anche molto magro e non potendosi permettere tanti vestiti spesso andava in giro con i calzoni che gli arrivavano a metà gamba perché non smetteva di crescere e continuava a tenere dentro di sé quel disperato desiderio di diventare un attore le uniche occasioni che aveva di esibirsi era quando organizzava scherzi per i suoi amici roy di questo suo nascondere tutto ne fece quasi una necessità e lo farà per tutta la sua esistenza nessuno avendolo conosciuto da adolescente avrebbe mai detto che il roy fosse attratto dagli uomini anche perché quando ebbe 18 anni il suo aspetto cambiò e a quel punto conquistare le ragazze diventò la sua cosa preferita tanto che gli amici lo detestavano perché alle feste le ragazze preferivano ballare con lui e gli altri rimanevano a guardare nel 1943 si arruola nella marina un giorno mentre era a bordo della nave militare che attraversava il golden gate bridge in direzione del pacifico dagli altoparlanti vennero fuori le note di a sentimental journey a cantare quel brano era una giovanissima cantante che in seguito diventerà anche una famosissima attrice non aveva idea roy che un giorno con quella stessa attrice avrebbe girato tra i suoi film più celebri e che sarebbe diventata fra le sue più care amiche quella era doris day agli inizi della sua carriera quando cantava con l'orchestra barney rap nelle radio locali ma prima che questo potesse accadere c'era ancora una guerra da vincere quando anche la guerra finì roy continuò il suo servizio per la marina come ha detto alla manutenzione dei velivoli e poi nelle filippine dove si occupava del servizio lavanderia come per tutto il resto ciò che avvenne nelle filippine è affidato alle parole di roy alle sue lettere che spediva agli amici ma a seconda dell'amico ecco che roy cambiava versione in qualche lettera quindi descriveva scene di sesso bollente con le ragazze filippine mettendole a confronto con quella di chicago ad altri invece confessava di aver avuto esperienze omosessuali con alcuni dei suoi commilitoni mai come in questo caso ciò che si sa su rock Hudson è mediato da rock Hudson stesso e chissà che universo interiore aveva e non era in grado di mostrare il 1946 fu un anno cruciale per roy dopo il congedo decise di non tornare in il noise ma di trasferirsi in california a long beach dal padre era il suo modo di rendere quel desiderio realtà rimanere a winnetka non era più possibile ma il padre se da un lato era felice di aver ritrovato il figlio dall'altro con una nuova moglie e una figlia e una situazione familiare consolidata non sapeva bene come inserire quel ragazzo già adulto all'interno di quel menage familiare ma per un po sembra funzionare iniziò anche a lavorare nella ditta dove lavorava il padre che per vivere vendeva aspirapolveri porta a porta ma ahimè non era un gran venditore in sei mesi non vendette neanche un aspirapolvere anche perché nelle sue trattative spesso scoraggiava i clienti ad acquistare ed era solito terminare con una frase raggelante non le conviene comprarla signora insomma non esattamente il modo migliore per vendere qualcosa il padre infuriato lo fece licenziare e senza troppi giri di parole gli fu detto di cercarsi un alloggio dove vivere roy così si cercò un appartamento e iniziò a lavorare come camionista a long beach però era tutto diverso era un ambiente molto più libero culturalmente stimolante e sessualmente aperto la california era proprio il luogo che aveva sempre sognato e dove presa a frequentare un gruppo di intellettuali tutti dichiaratamente gay in quell'ambiente dove poteva finalmente sentirsi libero di esprimere se stesso consolidò ciò che sentiva davvero di essere e soprattutto conobbe colui con cui allaccerà la sua prima relazione kenneth lodge un uomo sulla trentina elegante e molto colto e che aveva molti contatti con il mondo di hollywood possiamo sicuramente dire che ken fu il suo biglietto vincente per entrare nel magico mondo del cinema non passo molto tempo prima che roy andasse a vivere insieme a ken un uomo molto più maturo e navigato di roy che aveva appena 22 anni ken gli fece da mentore e come prima cosa gli suggerì di iscriversi in palestra per costruirsi un fisico adeguato agli standard di hollywood anche se in marina prima e come camionista poi il fisico di roy era già molto scolpito lo indirizzò inoltre verso diversi amici fotografi per iniziare a creare un portfolio con cui presentarsi alle audizioni gli fornì insomma tutti gli strumenti per sfondare era anche un grande organizzatore di parti che è pur di lanciare il suo pupillo non faceva che organizzare feste esclusive dove invitava la gente giusta quella con la quale entrare dalla porta principale e una festa oggi una festa domani qualcuno alla fine quel bel ragazzo alto e aitante lo nota il suo nome era harry wilson agente delle star di lui si diceva che facesse la gente solo per accalappiare giovani ragazzoni da usare a suo piacimento infatti nel suo carnet clienti c'erano esclusivamente uomini molto giovani e molto belli ma si diceva con scarsissimo talento inoltre sempre secondo i pettegolezzi del tempo se qualcuno finiva sotto contratto con wilson si dava per scontato che fosse gay anche se di fatto non era sempre così anzi il carnet di wilson era parecchio variegato nessuna hollywood parlava bene di wilson anzi era oggetto di pettegolezzi sfrenati in viso a tutti ma allo stesso tempo molto influente e molto capace quantomeno a lanciare carriere era anche molto vicino al grande produttore david o seltsin e fu l'artefice dell'ascesa al successo dell'attrice lana torner roy si affidò completamente a lui sicuro che glielo avrebbe reso una star e così fu una caratteristica di wilson era quello di cambiare i nomi veri dei suoi clienti in nomi d'arte piuttosto roboanti come ad esempio dac rambo ty hardin john derrick robert wagner futuro marito di natalie wood troy donaglio e ovviamente era decisa a cambiare anche il nome di royal fitzgerald ad aiutare wilson nella scelta del nome l'immancabile ken lodge che voleva per il suo pupillo un nome che esprimesse forza qualcuno quindi suggerì il nome rock che tradotto in italiano significa roccia e dopo aver approvato si provò a trovare un cognome che suonasse bene si munirono così di un elenco telefonico e iniziarono a scandagliarlo da cima a fondo quando arrivarono al cognome hudson trovarono la quadra perfetta rock e hudson stavano da dio insieme era deciso quello sarebbe stato il suo nome e per tutti da quel momento in poi sarebbe stato sempre e solo rock hudson anni dopo però l'attore dirà che dovette abituarsi al nome rock che proprio non gli piaceva disse anche che se fosse stato un minimo influente si sarebbe battuto affinché non gli affibbiassero quel nome piccolo aneddoto personale mia nonna siciliana che parlava solo siciliano era una grande fan dell'attore peccato che lo pronunciassi in un modo che proprio non gli rendeva giustizia potete facilmente intuire come ma se non l'avete capito e siete curiosi di saperlo scrivetemelo nei commenti e vi risponderò volentieri ma torniamo a noi e al futuro divo del grande schermo con un nome accattivante che esprimeva forza e virilità per migliorare il suo aspetto si decise anche di sistemargli i denti la trasformazione da roy fitzgerald a rock hudson fu come cancellare con un colpo di spugna il suo passato di sé e della sua vita ai nuovi amici dell'ambiente del cinema non parlerà mai come se quella parte di esistenza non fosse mai esistita rock come lo chiameremo da adesso in poi indirizzato dal suo agente iniziò subito a fare diversi screen test per le più grandi major ma almeno agli inizi veniva continuamente scartato fino a che non incontrò il regista raoul walsh della warner bros che rimase affascinato dalla presenza scenica di rock e gli diede una piccola parte nel film bellico del 1948 falchi impicchiata ma fu un mezzo disastro il debutto di rock davanti la macchina da presa fu a dir poco catastrofico walsh un regista estremamente esigente non faceva che rimproverarlo gli urlava non starte nell'impalato muoviti fa qualcosa rock girò quel film in stato confusionale era terrorizzato e con la salivazione azzerata e non ne faceva una giusta si dimenticava le battute non entrava a tempo diceva una cosa per un'altra nel montaggio finale di tutte le scene parlate di rock ne salvarono solo una e neanche fu semplice da girare perché continuava a dirla male e quindi io la fecelo ripetere 38 volte insomma non di certo un esordio esaltante ma nonostante questo piccolo intoppo tutti si resero conto di quanto la macchina da presa amasse rock hudson che letteralmente bucava lo schermo e il furbo wilson non potendo contare su un indiscusso talento almeno non in quel momento decise di puntare tutto sul fisic du roll di rock per creare dal nulla un sex simbolo da dare in pasto al pubblico femminile ma aveva tantissimo lavoro da fare la warner bros prima e la universal poi investirono tantissimo sulla sua formazione perché visivamente era perfetto come attore protagonista ma gli mancava tutto il resto e quindi lo massacrarono con lezioni di recitazione edizione portamento canto ballo lezioni di buone maniere aveva a sua disposizione una schiera di tutor e di insegnanti che lo avrebbero rivoltato come un calzino e in questo rock fu formidabile perché si mise completamente nelle loro mani che poi è una caratteristica che manterrà per tutta la sua carriera e in certi casi si spiense persino oltre ad esempio avrebbe voluto una voce più profonda e allora ripensò al suggerimento di wilson che un giorno gli disse ragazzo se vuoi avere davvero una voce da uomo allora la prossima volta che ti becchi un raffreddore va in montagna su in cima e caccia un urlo fortissimo e così fece quando gli venne il raffreddore andò in montagna e una volta che arrivò sulla cima più alta fece un urlo spaventoso che gli ruppò una corda vocale da quel momento ebbe una voce baritonale che non aveva mai avuto prima ascoltare e mettersi nella posizione di apprendere fu qualcosa che sicuramente contribuì a far emergere il suo talento durante i sette anni sotto contratto con la universal oltre ad aver studiato con dei futuri fuoriclasse del cinema come tony curtis si legherà moltissimo a due aspiranti attori george nader e il suo compagno mark miller una coppia che metterà il giovane rock sotto la loro ala protettiva ma soprattutto in quei sette anni l'immagine di rock sarà continuamente ridefinita dai pubblicisti della compagnia e uno dei modi in cui rendere un attore o un'attrice attrente per il pubblico era soprattutto quello di renderli appetibili al pubblico del loro sesso opposto nel caso di rock renderlo appetibile alle donne e bisogna dire che rock non dovette fare tanto per arrivare a questo scopo era estremamente telegenico e fotogenico ma ciò che sicuramente fu necessario fare era renderlo virile e più si costruiva l'immagine di un uomo a cui piacevano le donne e che usciva con tante donne più aumentava il livello di virilità e badate parliamo degli anni 50 adesso una roba simile sarebbe improponibile ma ai tempi funzionava il buon rock quindi fu spinta a uscire con più donne possibili e ovviamente a favore di paparazzi che in quegli anni lo fotografarono con tantissime ragazze aspirante attrici e starlette per lo più dopo la sua morte questo verrà letto come un tentativo da parte dell'attore e degli studios di coprire la sua omosessualità sì perché quando un tabloidi tirava fuori la storia della presunta omosessualità di rock Hudson ecco che il giorno dopo lo beccavano a uscire con tre donne diverse in un giorno anche il rapporto con la madre cambiò la donna che nel frattempo si era sposata per la terza volta parlava appena con il figlio ad ogni modo ciò che importava davvero a rock Hudson era imparare a recitare e quegli anni di duro lavoro diedero i suoi frutti perché rock era come una spugna e riuscì soprattutto a sviluppare un senso del tempo della battuta incredibile cosa che in quel suo primo disastroso film era riuscito impossibile un senso della battuta del tempo che gli tornerà utile soprattutto nelle commedie che per certo è il genere in cui ha dato il meglio di sé nel 1951 ottiene il suo primo vero ruolo importante in un film corale chiamato l'uomo di ferro a quella seguirono altre pellicole tutte girate nel 1951 come il film là dove scende il fiume dove rubò letteralmente la scena all'attore protagonista james stewart il film ebbe un successo di pubblico clamoroso e fu soprattutto rock il catalizzatore di questo successo sebbene lui stesso non credesse a quella fama improvvisa dovette ricredersi quella volta che si creò una folla impazzita di donne attorno a lui che urlavano il suo nome tanto che la sicurezza dovette portarlo via a forza non ci credeva rock Hudson alla sua fama eppure vuole provare a se stesso che fosse davvero così così un giorno si mise fuori dal suo hotel aspettando che qualcuno lo riconoscesse e non accadde nulla nessuno lo aveva riconosciuto neanche quando si mise accanto a uno dei tanti manifesti del film rock dirà di aver appreso una grande lezione quella volta la folla che ti acclama che ti adora non significa un bel niente è tutto effimero e dura il tempo di un soffio di vento se provi ad afferrarlo non ti rimane nulla in mano ad ogni modo la universal capì il potenziale di Hudson e letteralmente lo lanciò ovunque l'attore girò film su film anche tra i più improbabili come quello in cui interpretava un nativo americano e poi interviste su interviste ricche di foto dell'hai tante attore riviste scandalistiche che lo ritraevano con molte donne ma anche con uomini come il suo coinquilino bob preble foto che scatenarono i rumors su una possibile relazione fra i due relazione che bob ovviamente si affrettò a smentire dicendo dividiamo la stanza per risparmiare e le voci non cessarono neanche quando bob lasciò l'appartamento per sposare la sua fidanzata ad ogni modo bob e rock saranno sempre grandi amici il 1954 fu un anno importante per la carriera di rock Hudson e l'anno di magnifica ossessione del regista Douglas Sirk remake di un film del 1935 con Robert Taylor rock recita insieme all'attrice Jane Wyman in un melò che racconta di un donnaiolo che provoca un incidente stradale dove rimane coinvolta una coppia di coniugi il marito muore e la donna perde la vista per il trauma subito l'uomo allora interpretato da rock Hudson travolto dai sensi di colpa riprende gli studi di medicina per cercare di ridare la vista alla donna ed espiare così la sua colpa era una grande produzione e rock capì che qualcosa stava cambiando e che doveva approfittare di ogni consiglio o suggerimento gli arrivasse da quel colosso che era il regista Douglas Sirk con cui lavorerà ancora rock era molto concentrato ed era come abbiamo già detto come una spugna che apprendeva tutto era ricettivo al massimo quello fu di certo un set importante e pensate che stava quasi per perdere l'ingaggio sì perché poche settimane prima dell'inizio delle riprese rock si ruppò una clavicola avrebbe quindi necessitato di un gesso invece a malapena si fece bloccare la spalla e si presentò al primo giorno di riprese nessuno si accorse di nulla era un'occasione che non poteva lasciarsi scappare e fece bene perché fu il film che lo consacrò il mattino dopo l'uscita del film la scrivania del suo agente si riempì di lettere appassionate da parte delle fan scatenate di Rock Hudson un fiume d'inchiostro che non si arrestava mai con il successo però le voci che lo volevano gay e in coppia con un uomo si facevano sempre più insistenti in particolare la rivista Confidential fece uscire un'inchiesta che voleva dimostrare come la sua fama di donnaiolo fosse in realtà un modo per nascondere il suo orientamento sessuale la Universal si preoccupò molto perché nessuna donna voleva sognare un uomo che non poteva raggiungere che non poteva immaginare di vedere accanto a sé e come prima cosa pagò la rivista 10.000 dollari per non far uscire l'inchiesta poi il diabolico Wilson decise di procurare al suo pupillo una copertura intimandogli di non farsi più vedere in giro con i suoi amici George e Mark la prescelta fu una certa Phyllis Gates una segretaria della Universal e per rendere la cosa ancora più credibile alla donna fu chiesto di trasferirsi nella nuova magione acquistata da Rock in Sunset Boulevard il 1955 è l'anno del gigante un film molto importante per la carriera di Rock Hudson perché segnerà il punto di svolta nel suo modo di recitare il gigante è un film diretto dal pluripremiato George Stevens regista di Un Posto al Sole con Montgomery Clift e Liz Taylor se non avete ancora visto il video su Montgomery Clift lo trovate qui sopra la stessa Liz Taylor sarà la protagonista femminile del film il gigante è famoso anche per essere l'ultimo dei tre film girati da James Dean che morirà poco dopo la fine delle riprese il film racconta l'epopea di una ricca famiglia di petrolieri texani e le loro innumerevoli vicissitudini lungo un arco temporale di circa 30 anni li osserviamo nei loro 20 anni li vediamo crescere, diventare adulti e infine anziani se non l'avete visto fatelo perché è un film bellissimo molto lungo ma divinamente girato e recitato il film prodotto dalla Warner Bros ebbe una lunga lavorazione e fu soprattutto una grande produzione tanto che il ruolo di protagonista faceva gola a molti attori molto più navigati di rock come l'immancabile John Wayne, James Stewart ed Harry Fonda ma erano troppo grandi di età per poter risultare credibili in una storia che si sviluppava su tre decenni e quindi alla fine la scelta cadde sul roccazzo rock nei panni di Brick Benedict è un uomo arrogante, razzista convinto di avere il mondo ai propri piedi convinto di poter disporre delle vite degli altri e rock ci regalerà un'interpretazione intensa e assolutamente credibile del personaggio di Brick ma non è tutta farina del suo sacco sì perché ad aiutare rock a rendere il suo personaggio davvero credibile fu il regista George Stevens un uomo e lo vedrete capace di piegare la volontà di chiunque interloquisse con lui per il film il gigante il regista George Stevens messi prima di iniziare le riprese volle che rock anche fuori dal set si comportasse come un ricco petroliere in modo che arrivasse al giorno delle riprese quasi convincendosi di essere davvero un magnate del petrolio che aveva il mondo ai propri piedi con un ego enorme e con un nome da difendere ma ovviamente immaginarlo e convincersi di esserlo non era sufficiente e allora Stevens cercò di renderla una realtà così un giorno lo portò da un carpentiere e gli fece scegliere il legno migliore e poi gli disse ok che colore vuoi rock non capì subito di che stavano parlando poi realizzò George voleva costruirgli una magione in stile vittoriano come quelle dei veri petrolieri dove vivere rock stetta il gioco e scelse il colore della sua casa un marrone bruciato che si sposava benissimo a suo avviso con un'enorme casa vittoriana la casa di un magnate Stevens gli fece anche decidere la coprotagonista del film mettendolo di fronte a una scelta preferisci Elizabeth Taylor o Grace Kelly? Rock non ebbe dubbi Elizabeth Taylor Stevens si voltò verso uno dei suoi collaboratori e disse ok ragazzi ha scelto Liz Taylor anche se in realtà fu il modo in cui Stevens intonò il nome della Kelly a far intuire a Rock che Stevens avrebbe voluto la Taylor ma in ogni caso lo fece scegliere a lui gli diede autorevolezza quella che si deve a un magnate quale era lui in quel momento padrone assoluto del set e della scena e questo cementificò il loro rapporto un rapporto di estrema e reciproca fiducia l'attore ricorderà sempre quanto fu facile lavorare con George Stevens talmente facile che non dovette neanche imparare le battute a memoria le lesse appena come dirai gli stesso le avevo appena ingerite e non ci fu bisogno di ripeterle all'infinito un set dove gli attori recitarono in stato di grazia anche e soprattutto per la maestria del regista George Stevens come Rock racconta in un'intervista un giorno Stevens lo portò a pranzo fuori e Rock era così a disagio così in soggezione che non sapeva come muoversi dove mettere le mani e questo perché Stevens aveva l'abitudine di guardare fisso negli occhi il suo interlocutore Rock ovviamente era susseguioso continuava a chiamarlo Mr. Stevens e quasi non lo guardava però dopo due ore e qualche drink di troppo prese a chiamarlo George e lo face con una naturalezza che stupì egli stesso per primo i due durante il pranzo si confrontarono parecchio sul film Stevens sembrava indeciso su alcune idee e chiese aiuto a Rock che suggerì questo e quell'altro in realtà Stevens sapeva perfettamente cosa fare era il suo modo di coinvolgere gli attori far sì che si sentissero a proprio agio e Rock si rese conto che Stevens aveva il totale controllo della mente degli attori e faceva sempre in modo di piegare il pensiero degli altri in modo che essi credessero di aver avuto delle buone idee ma che in realtà erano idee che lo stesso Stevens aveva loro veicolato in qualche modo ma non fu tutto rosa e fiori il set del gigante non si sentì a proprio agio proprio con tutti non andava infatti molto d'accordo con l'acclamato attore dell'actor studio Jimmy Dean redice da due successi strepitosi gioventù bruciata e la valle dell'Eden ed era solo l'inizio almeno così pensavano tutti Rock però lo pativa molto non riusciva a sopportarlo e complice il gran caldo di quell'estate gli animi spesso e volentieri si scaldavano al punto che i due litigarono più volte Rock lo trovava appetulante e non gli piaceva il suo modo di recitare inoltre si dice anche che Dean tentò in tutti i modi di rubargli la scena e anche le attenzioni della coprotagonista femminile la bellissima Liz Taylor che poverina si trovò in mezzo a una vera e propria faida fra uomini una disputa assurda su chi avrebbe meritato di più l'amicizia dell'attrice inutile dire che Liz stringerà un legame molto forte con entrambi anche se e questo lo dirà anni dopo la morte di Hudson si era presa una grande cotta per Rock e come accadde per Montgomery Clift apprendere che fosse interessata agli uomini la face rimanere malissimo ma non glielo fece mai notare lui come suo solito le affibbiò un nomignolo la chiamava Bessie e per tutta la lavorazione non si separò mai da lei eppure James e Rock avevano più cose in comune di quanto credevano entrambi cercavano di nascondere la propria omosessualità o bisessualità chiaramente i più maligni dissero che Rock ce l'aveva con James perché aveva rifiutato le sue avance in realtà era proprio il modo di atteggiarsi a grande attore di Dean che irritava tanto Rock secondo lo scrittore Don Graham che sulla vicenda ha scritto un libro anche Liz Taylor era indispettita da Dean perché per quanto lavorassero duramente si rendevano conto che James Dean stava lasciando il segno nel film neanche George Stevens sopportava granché James Dean e soprattutto non sopportava col suo modo di atteggiarsi a sbruffone un po' come voleva il suo personaggio dopo tutto talmente tanto però da arrivare al punto di urinare sul set e di parlare costantemente anche quando non ce n'era affatto bisogno con l'accento texano spingendo fin troppo il gioco di immedesimazione che desiderava Stevens per i suoi attori e poi arrivava sempre in ritardo e non si scusava mai George Stevens alla fine delle riprese tirò un sospiro di sollievo e giurò che mai più avrebbe lavorato con lui ahimè le sue parole furono drammaticamente profetiche l'ottobre del 1955 segna una svolta nella vita personale di Rock Hudson infatti lo scapolo d'oro di Hollywood convola a nozze con la fidanzata Phyllis Gates anni dopo Phyllis dirà che per lei quel matrimonio fu vero che lei era profondamente innamorata di Rock e che era felice di sposarlo del fatto che fosse servita da copertura dirà di averlo scoperto tempo dopo volendole dare il beneficio del dubbio mi pare strano che non lo sapesse o che non l'avesse percepito anche perché si dice che subito dopo aver baciato la sposa come si suol dire i novelli sposi si affrettarono a chiamare le pettegole più pettegole di Hollywood Edda Hopper e Luella Parsons entrambe autrici di due rubri di gossip col fine di diffondere la notizia ai 420 quindi è molto probabile che sapesse di essere solo un diversivo per la stampa scandalistica che in ogni caso la stampa scandalistica non smetterà mai di fare illazioni sulla vita privata dell'attore neanche due anni dopo il matrimonio era solo una brutta facciata sbiadita marito e moglie vivevano insieme ma di fatto ognuno faceva la propria vita specie lui che invitava chi voleva e semplicemente la trattava da coinquilina ignorandola su ogni esigenza che potesse avere semplicemente non gli importava nulla di lei e non sopportava che lei si comportasse con lui come una moglie devota anzi la moglie della star che doveva controllarlo su e se è vero che il loro fu solo una copertura ci si poteva aspettare qualcosa di diverso quel matrimonio poggiato su basi fragilissime finirà 4 anni dopo nel 1958 sarà phyllis a volere il divorzio e accuserà Hudson di estrema crudeltà mentale rock di quel matrimonio che per lui non significava nulla non parlerà mai phyllis al contrario parlerà e come se parlerà attirandosi critiche ed antipatie il divorzio avvenne anche nel pieno della sfolgorante carriera di rock Hudson a quel tempo non c'era uomo o donna anziano o bambino che non trovasse rock Hudson irresistibile era l'attore che metteva d'accordo tutti bello ed affascinante ma anche rassicurante dolce, sensibile e simpatico sì, insomma non aveva quel tormento alla Montgomery Clift o alla Marlon Brando e forse per questo a un certo punto della sua carriera verrà affiancato a un'affascinante attrice che per tutti sarà sempre la fidanzatina d'America Doris Day bella ma non aggressiva dolce, ironica che non si prendeva troppo sul serio carismatica e rassicurante proprio come rock ma prima di lanciarsi nel filone delle commedie romantiche il nostro rock dovette affrontare la sua prima clamorosa debacle per un film che sulla carta non poteva proprio andare male la pellicola in questione si chiamava Addio alle armi tratto dal romanzo di Hemingway inizialmente affidato al navigato regista di western John Huston e che lo stesso Hudson scelse di interpretare al posto del ben più fortunato Ben Hur che poi fu interpretato da Charlton Heston suo partner di scena l'attrice Jennifer Jones moglie di David Olsetsnik che fin dai primi giorni di ripresa diede del filo da torcere a tutti soprattutto al regista John Huston che di fatti venne licenziato abbiamo già visto nel video di Montgomery Clift come Jennifer Jones fece impazzire anche il povero Vittorio De Sica nel film La Stazione se non lo ricordate andate a ripassare il video Huston venne sostituito da Charles Vidor ma era soprattutto roccazzone ad essere fuori ruolo perché, lo abbiamo detto il suo pubblico si era affezionato a un certo personaggio ricorrente quello dell'uomo forte ma rassicurante e quindi non apparve affatto credibile nel ruolo di un uomo provato dalla vita e dalla guerra la critica inoltre lo demolì perché avevano trasformato un grande romanzo bellico in un melò insopportabile e questo era stato ritenuto un oltraggio Rock ancora non lo sapeva ma nel suo destino c'era la commedia la Universal voleva infatti reinventare l'immagine di Rock Hudson fin troppo cristallizzata nel suo bel viso virile ma che rischiava di farlo finire presto nell'oblio l'approccio di Rock Hudson al genere commedia fu molto cauto l'attore ne era terrorizzato era un registro che non sapeva maneggiare sì, insomma, sarebbe stato capace di far ridere la gente? nel dubbio, quando gli proposero di fare il protagonista del film il letto racconta l'attore rifiutò la parte il regista Michael Gordon un giorno gli disse una frase che Rock non scorderà mai più la commedia è la tragedia più seria nel mondo affrontala in questo modo e non potrai sbagliare se mai pensassi di essere divertente non avresti alcuna chance di farcela ma ad aiutarla a prendere la decisione giusta fu proprio lei, la co-protagonista l'attrice Doris Day che comprese i dubbi del collega capì che era molto timido ma era certa che fra di loro ci fosse una chimica formidabile quella di Rock in effetti era FIFA nera di non essere divertente e lei fece in modo di rassicurarlo e ci riuscì perché Rock Hudson firmò per la parte quando si incontrarono i due capirono subito che sarebbero diventati amici per la pelle e così fu Doris fu un'amica preziosa per Rock e poi se proprio doveva recitare in una commedia ma chi più di Doris Day a dividere la scena con lui? la viscomica dell'attrice era straordinaria e sebbene il film il letto racconta era stato pensato per trasformare Doris Day in una bomba sexy la sua irresistibile verve comica prese il sopravvento e coinvolse tutti compreso Rock che anzi sulla scena spesso doveva trattenersi dal non ridere e pensate che ridevano così tanto che accumularono un ritardo di una settimana rispetto alla tabella di marcia la scena finale quella dove Rock alias Brad trascina fuori dal letto Doris Day la porta in braccio per le strade di New York fino al suo appartamento è stata girata per prima c'è un aneddoto curioso attorno a questa scena perché sebbene Rock avrebbe potuto farla in unica ripresa dovette rifarla più e più volte a causa di un attore che interpretava un poliziotto e che avrebbe dovuto semplicemente dire ehi come va Brad e invece continuava a sbagliare la battuta dicendo ehi come va Rock la girarono così tante volte che a un certo punto la schiena di Rock cedette e dovettero usare una sorta di mensola dove appoggiare l'attrice con lenzuola e coperta a coprire per agevolare Rock a portare a termine la scena entrambi ricorderanno il letto racconto come l'esperienza più divertente della loro vita la complicità fuori dal set era perfettamente riproposta sulla scena i due recitavano in sincrono Doris Day dava la battuta e lui subito dopo la sua in un modo così spontaneo che tutti stentavano a crederci anche nelle scene di pianto Doris era esilarante la sua risata assolutamente contagiosa Doris e Rock erano una coppia voluta dal cielo il film ebbe un successo strepitoso perché era una commedia garbata, divertente ma mai volgare e metteva d'accordo tutti i conservatori che apprezzavano il fatto che la protagonista non si concedesse al suo vicino ai tante e i progressisti che vedevano nel personaggio di Doris un guizzo di modernità che avrebbe anticipato la successiva rivoluzione sessuale anche il personaggio di Rock era quanto di più positivo potesse esserci un playboy che si innamora e finisce con lo sposarsi e mettere su famiglia quale messaggio più moralisticamente rassicurante da lanciare al pubblico americano? ovviamente la Universal spinse immediatamente affinché la coppia facesse un altro film del genere Doris Day ne fu entusiasta e nel 61 i due tornarono sul set per il film Amore ritorna e la magia si ripropose puntuale anche questo film fu un successo al botteghino e dato che non c'è due senza tre i due ci riprovano ancora nel delizioso film del 1964 Non mandarmi i fiori dove stavolta Doris e Rock interpretano una coppia di conugi collaudata in una classica commedia degli equivoci che racconta di un uomo che ascolta una conversazione al telefono tra la moglie e il suo cardiologo e si convince di stare morendo da lì si dipana la storia davvero esilarante fino al lieto fine una commedia garbata, divertente e leggera che personalmente guardo sempre con piacere tra le tre Non mandarmi i fiori è la commedia più di successo con ben 9 milioni di incasso al botteghino un successo strepitoso che l'incoronerà come re e regina indiscussi della commedia romantica Nel frattempo l'ascesa di Rock Hudson tra le star di Hollywood impoverì la sua vita sociale e contribuì ad aumentare il suo isolamento non si fidava di nessuno e quando approccia qualcuno che non fosse dello showbiz si chiedeva sempre sta uscendo con Rock o con Roy? Ad ogni modo non smise mai di frequentare uomini e qualcuno dirà che la tendenza di Rock era quella di uscire con uomini che sembrassero etero e che fossero soprattutto molto belli e molto biondi ma fino a quanto poteva tollerare di vivere quella vita clandestina per quanto ancora avrebbe sopportato di non poter amare qualcuno alla luce del sole il nervosismo di Rock per la sua condizione di uomo che deve nascondersi si avvertiva nella sua gestualità si mordeva spesso le mani si mangiava le unghie era sempre molto nervoso e irascibile di contro aveva un contratto con la Universal nuovo di Z una magione a Beverly Hill Drive dove dava tantissime feste e si circondò di amici di cui si fidava ciecamente e a cui faceva regali su regali ma era schivo la sua vita privata era una cosa che non condivideva con nessuno neanche con gli amici più cari e se qualcuno insisteva nel fargli domande lui se ne sbarazzava perché niente contava più della sua riservatezza voleva disperatamente uscire allo scoperto ma non ci riuscirà mai intorno alla metà degli anni sessanta la sua carriera iniziò a vacillare i ruoli che la Universal gli proponeva non lo stimolavano più erano portatori di valori obsoleti mentre lui voleva cimentarsi in ruoli diversi lontani da quelli che aveva fino a quel momento affrontato a volte gli proponevano dei film interessanti ma la Universal si tirava indietro perché gli studios pensavano che avrebbero sporcato la reputazione del loro preziosissimo attore e avrebbero scandalizzato i benpensanti e quindi facevano riscrivere la sceneggiatura appiattendo tutta la storia che perdeva di fascino e interesse a quel punto Rock era stufo e come prima cosa licenziò il suo storico agente colui che l'aveva creato dal nulla era diventato pigro non proponeva niente di nuovo non aveva piani per me se ne stava in ufficio aspettando che squillasse il telefono e poi aveva un ego spropositato ma non solo ebbe anche il coraggio di prendere il contratto con la Universal e gettarlo alle ortiche non voleva più che la sua carriera fosse ostacolata da persone che vedevano in lui solo una gallina dalle uova d'oro e che quindi non lo lasciavano usare ingaggiò un nuovo agente John Foreman con il preciso mandato di lasciargli fare quello che desiderava si lanciò in altre commedie come nel film Lo sport preferito dai uomini del re della commedia Howard Hawks del 1964 ma Foreman gli procurò anche un ingaggio per un dramma con risvolti fantascientifici chiamato Operazione Diabolica del 1966 in questo film l'intento di Rock era di sfidare le sue capacità attoriali di lanciare il sasso più in là di certo un film che rompeva con i generi tradizionali hollywoodiani una sorta di El Faust moderno un uomo di mezza età stanco della propria vita a cui viene data la possibilità di cambiare volto tramite la chirurgia plastica nome e vita ma a che prezzo però quando lo scoprirà rimpiangerà la sua vecchia vita in questo film Rock Hudson appare dopo il quarantesimo minuto quando il suo personaggio assume i nuovi connotati e si risveglia dall'operazione chirurgica con il volto di Rock l'attore si identificava molto con il personaggio del film John Wilson come lui per quanto provasse a nascondere il suo passato questo non si poteva cancellare il film approdò al festival di Venezia dove venne duramente fischiato Rock era tra il pubblico e quando fu invitato ad alzarsi la platea inaspettatamente lo accolse con un fragoroso applauso una reazione contrastante che la diceva lunga sulla delusione del pubblico che non accettava di vedere un attore così amato recitare in una pellicola del genere così lontana da lui il pubblico la Universal il mondo intero non accettava che Roccazzon potesse uscire dai soliti panni e questo gli provocò un'enorme frustrazione perché si rese conto che per galleggiare in quel mare di squali doveva navigare in acque conosciute e quindi nel 68 torna a vestire i panni dell'eroe buono nel dramma base artica zebra ambientato in un sottomarino in piena guerra fredda il 68 fu un anno cruciale nella storia dell'uomo è l'anno di Woodstock della rivoluzione sessuale della liberazione della donna della nascita del femminismo un anno di completa e totale rottura con il passato in questo clima incandescente le voci sempre più insistenti sull'omosessualità di Roccazzon sollecitarono l'indignazione della frangia omofoba del paese che alla prima di base artica zebra lo accolse con insulti omofobi davvero intollerabili al punto che Rocca da quel momento in poi smise di partecipare alle premiere dei suoi film inoltre l'interesse morboso per la sua vita personale aveva raggiunto livelli parossistici pensate solo che ogni singola intervista negli ultimi vent'anni della sua vita si apriva sempre con una domanda mister Hudson ma lei è gay domanda a cui lui rispondeva sempre con prossima domanda aveva imparato a glissare ma quanto poteva sentirsi stanco di sentire quella domanda e quanto avrebbe voluto liberarsi da quel gioco e ogni volta che doveva fare un'intervista era così teso che Rocca prese l'abitudine di strofinare il dito indice sopra l'unghia del pollice al punto da provocarsi una sorta di lesione all'unghia e la sua vita privata? agli inizi degli anni 60 l'attore aveva iniziato una relazione tra le più durature con il pubblicista Tom Clark una relazione che durerà ben vent'anni i due vivranno insieme e Tom darà a Rocca la stabilità che aveva sempre rincorso Tom era quello che gli riordinava la vita sociale e professionale che lo teneva con i piedi per terra era la sua spalla e la persona che faceva da filtro fra l'attore e il mondo fuori fu un rapporto molto importante per entrambi ma non fu mai un rapporto esclusivo quello purtroppo Rocca non era in grado di offrirlo a nessuno sì perché Rocca intratteneva rapporti occasionali con tantissimi uomini persone che spesso conosceva appena le conseguenze di quei rapporti occasionali li avrebbe pagati in seguito e a caro prezzo nel 1969 gira un film con il re del genere western John Wayne dal roboante titolo e come ti sbagli quando c'è di mezzo John Wayne i due invincibili Roccazion ammirava Wayne e provava un certo imbarazzo dover lavorare con lui eppure i due ebbero subito una forte intesa quando si incontrarono per la prima volta Wayne diede una stretta vigorosa a Rocca e gli disse mi hanno detto che sei un giocatore di bridge formidabile Wayne però per tutto il primo giorno di riprese lo trattò un po' come un novellino lo fece in buona fede si intende ma continuava a dargli consigli e suggerimenti su come recitare come se Rocca fosse la sua prima scena della vita Rocca per una certa riverenza non solo accettava i suggerimenti ma li metteva in pratica poi di notte ci pensò e si disse ma vuoi davvero farti dirigere da lui vuole dominarmi o cosa il giorno dopo spavaldo come non mai fu lui a suggerire a Wayne come muoversi ma perché non giri la testa così perché non dici quella battuta con la John Wayne capì subito l'antifona gli puntò il dito contro e gli disse bravo ragazzo mi sei piaciuto nel 1971 la televisione apre le porte al grande attore di Hollywood firma infatti per girare la serie televisiva Macmillan e Signora diventando la star televisiva più pagata di sempre molti videro in quella prodo alla tv l'inizio del suo declino nel mondo del cinema ma Rocca amava quel progetto e si buttò a capofitto in quella serie che raccontava le avventure di un commissario di polizia che in ogni puntata si trovava ad occuparsi di un caso spinoso che riusciva a risolvere grazie al grande intuito della moglie Sally la serie andò avanti dal 1971 al 1977 ma nella sesta stagione parte del cast rifiuterà di partecipare per controversie contrattuali tra cui la coprotagonista Susan St. James il cui personaggio verrà fatto morire in un incidente aereo la settima stagione con il solo Rocca Hudson sarà anche l'ultima infatti non verrà confermata per via degli ascolti molto bassi piccola curiosità il pilota della serie cioè il primo episodio mai girato venne in parte girato all'interno della casa dell'attore alla carriera televisiva seguì quella teatrale sarà il protagonista del musical Re Artù che l'attore portò al successo nonostante le sue scarse doti canore gli anni 70 sono un decennio di grandi cambiamenti per Rocca anche fisicamente iniziò ad ingrassare fumava molto e soprattutto beveva e pare che quest'ultima brutta abitudine la condividesse con Tom Clark un noto alcolista si dice che i due arrivassero a bere un litro e mezzo di whisky ciascuno ogni sera e quando erano con degli amici ingollavano un drink dietro l'altro quando gli amici erano ancora fermi al primo ma Tom Clark insieme a Mark Miller e George Nader erano la sola famiglia che avesse mai avuto e la sua vera famiglia fu per lui un fardello di cui si occuperà per dovere quando la madre si ammalò non andò mai a trovarla lo fece solo quando era già morta anche se la sostenne sempre economicamente il 1971 Rock dovette affrontare lo scandalo del suo finto matrimonio gay un gruppo di uomini della comunità gay di Los Angeles organizzarono una sorta di festa a tema i cui inviti furono mandati ovunque ma l'invito si riferiva non a una semplice festa bensì a un matrimonio segreto quello fra l'attore Rock Hudson con Jim Neighbors l'invito ovviamente falso finì tra le mani dei giornali scandalistici che riportarono la notizia come se fosse vera e tutti per un po' ad Hollywood pensarono davvero che Rock stesse per sposare un uomo e la voce quindi continuò a circolare indisturbata per qualche tempo Rock e Jim che erano semplici amici furono travolti dallo scandalo al punto che per togliere di mezzo ogni dubbio smisero di frequentarsi e di parlarsi la carriera di Rock per tutti gli anni 70 proseguì principalmente in televisione fu il protagonista di vari show televisivi nel 1981 iniziò le riprese di una nuova serie ma un giorno mentre stavano girando una scena Rock Hudson accusò fortissimi dolori al petto tutti pensavano che gli eccessi degli ultimi anni gli stessero chiedendo il conto e in effetti il suo cuore era così malandato che gli impiantarono un bypass lo show fu sospeso nel 1983 dopo 13 episodi qualcosa nel carattere di Rock Hudson cambiò di colpo divenne irascibile e intrattabile al punto che persino Tom Clark l'uomo che gli era stato accanto per 20 anni decise di allontanarsi da lui ma non rimase solo a lungo Rock perché a sostituire Tom nella vita dell'attore arrivò il 29enne Mark Christian che andò a vivere a casa di Rock pochi giorni dopo essersi conosciuti gli amici di Rock sostengono che a Rock la cotta per Christian passò presto ma quest'ultimo invece non aveva alcuna intenzione di lasciare a casa di Rock e la situazione fra di loro si fece subito molto complicata sempre secondo gli amici più intimi di Rock Hudson Mark Christian ricattava Rock sì perché per tenerlo a sé gli diceva che conosceva i direttori delle maggiori testate scandalistiche e che gli sarebbe bastato alzare il telefono per far partire uno scandalo con tanto di prove secondo queste voci quindi l'ultimo amante di Rock Hudson lo teneva in pugno con l'arma del ricatto ma ben presto i problemi di Rock sarebbero stati altri e molto molto più gravi ci avviciniamo alla parte forse più triste e dolorosa della vita di Rock Hudson quella che riguarda la malattia che lo porterà alla morte nel 1985 tutto era iniziato un anno prima nel 1984 quando Rock interprese l'ennesima relazione occasionale questa volta con un gigolò che fece arrivare da New York con un volo dell'America Airlines i due ebbero un rapporto non protetto Rock lo pagò 150 dollari e lo rispedì a casa sei mesi dopo ricevette una lettera dove il ragazzo gli comunicava di aver scoperto di essere siero positivo nella lettere il ragazzo appare prostrato gli dice che non aveva idea di aver contratto il virus Rock Hudson fu il primo attore di Hollywood a contrarre la malattia del secolo l'IDS nel 1984 l'HIV era un virus a trasmissione sessuale di cui si sapeva davvero pochissimo nessuno sapeva come si trasmettesse e che conseguenze avesse soprattutto fu grazie a una campagna di sensibilizzazione che la medica e il mondo intero scoprì quanto letale fosse l'HIV e soprattutto la malattia da cui derivava l'IDS sindrome da immunodeficienza acquisita e agli inizi l'IDS aveva un tasso di mortalità pari al 100% era come ricevere una condanna e poi c'era lo stigma attorno alla malattia dovuta all'alta incidenza in soggetti maschili di orientamento omosessuale e non perché gli omosessuali fossero più promiscui come si è sempre pensato ma perché il tipo di rapporto sessuale quindi favoriva la trasmissione del virus per moltissimi anni l'IDS fu per tutti la malattia dei gay o dei tossicodipendenti rei di scambiarsi le siringhe sporche di sangue infetto furono anni tragici in un decennio i numeri delle morti legate all'HIV salì a livelli pandemici prima che le sue condizioni diventassero davvero gravi e prima ancora che scoprisse di essere malato Rock Hudson si fece vedere alla Casa Bianca al cospetto del presidente Reagan e la moglie i segni della malattia erano già visibili come le petecchie lesioni scure che apparivano sulla pelle una settimana dopo ricevette la diagnosi fatale volò a Parigi per sottoporsi a una cura sperimentale ma la malattia continuava ad avanzare il 22 settembre del 1984 rilasciò un'intervista al Terry Wogan Shaw dove apparve ancora al suo meglio continuò a lavorare e partecipò ad alcuni episodi della serie di successo Dynasty nessuno sapeva della sua malattia ma qualcosa nel suo viso iniziò a cambiare divenne scavato molto scavato dimagriva a vista d'occhio come se una forza inarrestabile gli strappassi i chili di dosso ogni giorno che passava in una scena dove doveva baciare un'attrice ebbe un attimo di esitazione e se l'avesse contagiata era certo che avessero scoperto tutto su come si trasmetteva questa malattia non volle rischiare e la baciò sul lato della bocca e mai direttamente sulle labbra pochi mesi prima che morisse Doris Day lo invitò come ospite al suo programma televisivo ma gli amici gli sconsigliarono di andare lui però voglia andare perché era Doris a chiederglielo e lui non poteva dire di no a Doris Day ma nessuno si aspettava di vederli in quello stato neanche Doris Rock era assolutamente irriconoscibile sembrava che il vigore che da sempre lo aveva dominato lo avesse completamente abbandonato e tutti si interrogarono su cosa stava accadendo alla salute di Rock avrebbero scoperto qualche settimana dopo e con sgomento le reali condizioni dell'attore il 25 luglio del 1985 mentre si trovava a Parigi per delle cure fu ricoverato d'urgenza nell'ospedale americano della città il direttore sanitario si rifiutò di mantenere il riservo sulla malattia per questione di salvaguardia della salute degli altri pazienti così lo staff di Rock si decisa a indire un comunicato stampa per comunicare al pubblico le sue condizioni di salute il mondo seppe in quel momento che Rock aveva la malattia del secolo e tanto fu lo shock per quella notizia che l'ospedale venne letteralmente evacuato non rimase nessuno furono tutti trasferiti Rock si era arreso alla malattia non c'era altro da fare che tornare a casa a Los Angeles in quei suoi ultimi giorni di ricovero in ospedale un giorno venne a trovarlo il suo caro amico Stroketon Brickle Rock se ne stava seduto su una poltrona nella sua camera di lusso dell'ospedale universitario della California con lo sguardo spento chiese all'amico ti dispiacerebbe grattarmi le spalle e l'amico ma certo che no e Rock aggiunse sai che nessuno mi tocca nessuno vuole più toccarmi pensate a quest'uomo tra gli attori più famosi della storia del cinema acclamato venerato desiderato da milioni di fans dentro una camera di ospedale solo sconfitto e minato nel fisico chiedere di essere toccato chiedere che qualcuno lo sfiorasse perché nessuno neanche le infermiere osavano farlo per paura di beccarsi con la malattia orribile e misteriosa che ti consumava da dentro che ti spegneva lentamente come una candela Rock Hudson morì nella sua casa di Beverly Hills il 2 ottobre del 1985 all'età di 59 anni la stampa scandalistica non lo lasciò in pace neanche da morto i paparazzi con un cinismo orribile tentarono di fotografarne la salma mentre procedeva verso la camera ardente che verrà allestita in forma privata neanche l'ultimo amante Mark Christian decise di lasciare in pace Rock a un mese dalla sua morte citò in giudizio gli eredi perché a suo dire Rock non gli aveva mai detto della sua malattia e l'aveva volontariamente esposto al virus e per questo chiedeva milioni di dollari come risarcimento durante la causa civile fu però provato che la loro relazione era terminata molto prima che Rock contresse la malattia Mark Christian fece anche il test che risulta negativo ad ogni modo la giuria stabilì che Christian avesse diritto a un risarcimento economico di 25 milioni di dollari la somma fu ridotta a 5 milioni dal giudice che mise la sentenza successivamente Christian ricorse in appello ma nel 91 fu raggiunto un accordo extra giudiziale che pose fine alla controversia fra le parti la morte di Rock Hudson accese letteralmente un faro su quella letale e a quel tempo sconosciuta malattia ma chiaramente mise in luce anche la doppia vita di Rock per tutti il prototipo del maschio americano portatore di virilità e mascolinità e assurdamente associata all'eterosessualità amici miei ci sarebbe tanto da dire su questi stupidi cliché Rock Hudson in qualche modo smontò pezzo per pezzo questo intramontabile cliché ma non lo metterà al riparo dalle critiche feroci e dalla crudele spietatezza di chi da morto gli fece pagare lo scotto di aver condotto una doppia vita il suo pubblico però quello che lo aveva amato soffrì moltissimo per la sua perdita Rock Hudson venne cremato e le sue ceneri disperse in mare il suo ingente patrimonio stimato in 27 milioni di dollari venne in gran parte ereditato dal suo grande amico George Nader Elizabeth Taylor in seguito alla morte di Hudson diventerà la principale promotrice della campagna di sensibilizzazione contro l'AIDS in America Rock Hudson icona di bellezza e di virilità verrà ahimè ricordato per la sua tragica fine e la sua doppia vita eppure tanto aveva dato quest'attore al pubblico americano e tanto ancora avrebbe potuto dare ed eccoci alla fine di questo percorso di vita conoscevate Rock Hudson cosa sapevate della sua vita della sua carriera se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto iscrivetevi al canale seguitemi anche sulla pagina Instagram dell'Angolo del Crimine se volete e nulla ci vediamo giovedì prossimo alle 18 qui su The Hollywood Boulevard ciao ciao